Antonio aveva utilizzato i suoi ultimi risparmi per acquistare una fattoria cadente e abbandonata, nella speranza che finalmente la sua fortuna si sarebbe voltata. Ma quando entrò per la prima volta all'interno, non poté sapere quanto radicalmente avrebbe cambiato la sua vita dopo aver scoperto qualcosa di scioccante nell'attico. Quando il datore di lavoro di Antonio lo accolse alla sua fattoria quella mattina, capì immediatamente che il vecchio aveva delle notizie per lui e il sorriso sul suo volto gli disse che si trattava davvero di buone notizie. Il contadino aveva visto un annuncio di una fattoria in vendita per soli mille dollari. Dopo un'indagine, aveva scoperto che si trattava di un'offerta legittima. Il proprietario, un anziano di nome George, era scomparso senza lasciare famiglia. Sapendo che sarebbe andata sprecata senza un proprietario, George aveva istruito il suo avvocato a trovare una persona disposta a comprarla per questa ridicola somma di denaro. Il contadino aveva sempre saputo che Antonio sognava di possedere un giorno una fattoria e aveva concluso l'affare per conto suo. Tutto ciò che doveva fare ora era firmare i documenti. Antonio fu quasi commosso dalla generosità del suo datore di lavoro e si diresse immediatamente a guardare la fattoria che avrebbe potuto diventare sua. C'era molto lavoro da fare, ma poteva ricostruire questo luogo nella sua antica gloria. C'era solo un problema. Quei mille dollari erano i suoi ultimi risparmi. Se li avesse spesi per la fattoria non avrebbe avuto nulla su cui contare in caso di difficoltà, il che significava che non c'era assolutamente spazio per errori. Prese una profonda boccata d'aria, entrò nell'ufficio del notaio e firmò i documenti che finalmente lo avrebbero reso proprietario della fattoria Silvermoon. Prima di separarsi dai suoi ultimi risparmi, chiese al notaio di raccontargli la storia dietro la fattoria. Sapeva già che la terra apparteneva a un uomo di nome George, ma il legale spiegò che il contadino aveva ancora alcuni parenti al mondo. Era il padre di due gemelli di nome Rick e Warren, che sfortunatamente non avevano mai mostrato interesse per la fattoria di famiglia e raramente visitavano il padre. Sua moglie Maggie era morta 30 anni fa, lasciandolo completamente solo con un grande appezzamento di terra che era stato nella sua famiglia per generazioni, ma sarebbe rimasto abbandonato dopo la sua morte. George sapeva che gli rimaneva poco tempo da vivere, poiché i medici gli avevano detto anni fa che c'era davvero poco che potessero fare riguardo alla sua condizione cardiaca. Aveva già superato di gran lunga le loro aspettative per anni, ma la costante insensibilità nel suo braccio sinistro e il respiro corto che provava ogni volta che faceva una passeggiata. Gli facevano capire che avrebbe presto incontrato il suo creatore. Maggie gli aveva fatto promettere che avrebbe rimediato al rapporto rovinato che aveva con i suoi figli, che a quel punto erano entrambi sposati e padri di famiglia. Poiché George sapeva di essere un anziano malato, aveva fatto del suo meglio per mettersi in contatto con i suoi ragazzi e convincerli a visitarlo in fattoria, ma anche se promettevano di venire, non lo facevano mai. C'era sempre qualche imprevisto legato agli affari che spuntava improvvisamente e che dovevano affrontare. Gli mandavano ogni tanto una foto delle loro famiglie e speravano di placare il loro papà. Solitario e triste, il vecchio aveva riversato tutta la sua vita nella sua fattoria, fino all'ultimo respiro. I suoi figli non si erano neanche presentati al suo funerale e avevano delegato il notario di trovare qualcuno che comprasse la fattoria. Quando l'avvocato aveva finito di parlare, Antonio sentì un dolore al petto. Avrebbe voluto poter essere accanto a George nei suoi ultimi momenti, anche solo per assicurargli che la sua preziosa fattoria sarebbe stata ben curata. Così giurò di riportarla al suo antico splendore e si lanciò in un'avventura che avrebbe cambiato la sua vita per sempre. Per fortuna non era la sua prima esperienza in una fattoria. Antonio lavorava giorno e notte, ripulendo la casa, riparando le recinzioni, piantando nuove colture e sistemando tubature rotte. Conservò la maggior parte dei mobili e degli oggetti utili di George e trovò persino un diario nell'attico che sembrava pieno di bei ricordi. Si disse che lo avrebbe letto presto, ma era semplicemente troppo occupato. Dopo settimane di fame e insonnia, dovette recarsi in città per rifornimenti. Mentre si sedeva al ristorante locale per il suo primo pasto adeguato in settimane, vide una bellissima signora di nome Sara. Il suo sorriso sciolse il suo cuore e in quel momento capì che la sua fortuna era completamente cambiata, persino in amore. Antonio e Sara si sposarono tre mesi dopo essersi incontrati per la prima volta. Sara era abituata alla vita di campagna e decise subito di ripristinare il bellissimo giardino di fiori di fronte alla loro casa. Poi si concentrò sull'interno della casa, dipingendo tutte le pareti da sola e cuocendo nuove tende per adattarsi allo stile country della fattoria. Antonio arava i campi e comprò il suo primo bestiame con i soldi che aveva risparmiato meticolosamente. Insieme finalmente trovarono il tempo di aprire il diario dell'attico. Era pieno di foto dei gemelli e racconti della fattoria, scritti sia dalla mano di Maggie che da quella di George. Una sera trovarono una lettera non aperta nella parte posteriore del diario. Era indirizzata al nuovo proprietario della Silvermoon. Quando iniziarono a leggerla, si resero conto che la storia in essa contenuta era sia triste che incoraggiante. George aveva scritto che se uno sconosciuto avesse letto quella lettera, significava che i suoi figli non avevano onorato il suo ultimo desiderio di tornare alla fattoria e mantenerla nella famiglia. Pertanto l'eredità che avrebbe dovuto essere la loro, ora sarebbe appartenuta al nuovo proprietario. La lettera di George li indirizzava verso un pavimento nell'attico, dove avrebbero trovato una grande borsa. Mentre Antonio e Sara salivano nell'attico polveroso quella sera, i loro cuori battevano forte. Non avevano idea di quale tesoro George avesse lasciato loro. Quando Antonio sollevò il pavimento, vide una vecchia borsa da palestra sporca, annidata tra le ragnatele. Quando la aprirono, rimasero completamente scioccati. Era piena di pile e pile di denaro. La coppia guarda i soldi, sapendo che avrebbero onorato l'ultimo desiderio di George. Lui voleva che usassero parte dei soldi per ricostruire la fattoria e, semmai i suoi nipoti avessero chiesto di visitarla, chiedeva umilmente alla coppia di permetterlo. Antonio e Sara visitarono il notaio in città il giorno successivo e gli raccontarono quello che avevano trovato. Ottennero anche le informazioni di contatto di Warren e Rick. I gemelli confermarono alla coppia di non essere interessati alla fattoria, ma che stavano intraprendendo azioni legali per reclamare la loro eredità. Anche se i figli separati di George cercarono di contestare il testamento del padre, non avevano molte basi legali su cui porsi. George si era assicurato di essere dichiarato mentalmente stabile quando aveva stilato il suo testamento finale e non aveva lasciato scappatoie perché i figli rivendicassero qualcosa. La sua scelta si è rivelata molto saggia, perché ben presto si scoprì che i gemelli erano gravemente indebitati e faticavano a far fronte alle spese. Anche le loro famiglie stavano soffrendo molto a causa della loro mancanza di responsabilità. Sara e Antonio continuarono a sviluppare la fattoria finché non fu ripristinata alla sua antica gloria, dedicando persino una parte del loro orto a George. Anni dopo, poiché non avevano mai avuto figli propri, organizzavano festività in cui i ragazzi e ragazze potevano venire a imparare cose sull'agricoltura e la vita in fattoria. Rimasero molto sorpresi quando un adorabile bambino e una bambina si presentarono un'estate come Cala e Gregory. Dissero alla coppia che questo posto gli ricordava alla fattoria che il loro nonno George aveva gestito una volta. Il loro padre non voleva mettere piedi in quella fattoria, ma i piccoli sognavano un giorno di possedere un posto proprio come questo. Sara e Antonio poterono finalmente onorare i desideri del loro benefattore di accogliere i suoi nipoti nella fattoria che aveva tanto amato. Mentre i quattro guardavano la luna d'argento nel cielo sereno quella sera, tutti sapevano che, nonostante le difficoltà, la vita aveva ancora molto di buono da offrire. Un finale commovente. Secondo voi è stato giusto che George non lasciasse eredità ai suoi figli? Fatecelo sapere nei commenti. Grazie per aver guardato e ci vediamo alla prossima.